La società ha creduto molto in me, quindi cercherò di ricambiare la fiducia in buone prestazioni e magari in tanti gol. Quali sono le caratteristiche migliori che si riconosce? Gli ultimi anni ho fatto spesso l'esterno, io sono un giocatore che può fare sia l'esterno che la punta centrale, se quest'anno magari ritorno nel mio ruolo naturale mi farebbe molto piacere. Cosa conosceva di Catanzaro e del Catanzaro prima d'ora? Diciamo che contro Catanzaro ho giocato solo una volta l'anno scorso, però conosco la storia, conosco tanti giocatori che comunque sono passati qui e mi hanno parlato molto bene. Quindi sono venuto qui e speriamo comunque di entrare nella storia anche noi. A proposito dello scorso anno qui a Catanzaro, con la Salernitana non è andata tanto bene, quindi sarà l'anno del riscatto di Mohamed Fofanat. Io con la Salernitana qui non c'ero perché ero a Ranciano, però li ho incontrati nel giro di ritorno e comunque mi è sembrata un'ottima squadra. Speriamo quest'anno di far meglio di quello che hanno fatto l'anno prima, poi se si chiude in bellezza ancora meglio.